Sto di sotto ripresa ragazzi eh, è usata che vi è stati per l'estero. Sto di sotto ripresa ragazzi, è usata che vi è stati per l'estero. Sto di sotto ripresa ragazzi, è usata che vi è stati per l'estero. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. non lo so non sono riuscito a vederlo lo vedo cosa hai visto? lo vedo io Igor oi sei qui ok? si a vederlo non so dov'è ok mi sa che si vede a quel dosso lì? mi sa che si vede a capire dove fare? mi sa che l'hai visto l'albi? ho un'altra pistola no me la faccio vedere si è Jack mi sa che l'hai visto l'albi? mi sa che l'hai visto l'albi? ok è impossibile da pigliare l'albiotro il solito camperone mi sa che l'hai visto l'albiotro mi sa che l'hai visto l'albiotro mi sa che l'albiotro allora prendi un po' di sto io vado avanti ragazzi mi fa sparo 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 bippo è morto dopo dopo alle fatto le gamine di palco bravo 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 uccine uccine bravo Questo è buono sul sito. Buono sul sito.